amiche amici di gp1 ciao a tutti siamo qua in compagnia di un grandissimo pilota nicolo canepa ciao a tutti ciao nick quest'anno ti devi impegnare perché sei pieno di gare e tutto io penso che partecipare alla 200 miglia di daytona sia un qualcosa di veramente super bellissimo quando tipo preso la notizia ha detto cavolo è una grande grande sfida sì sicuro è a parte che sono impegnato nel mondiale nel mondiale endurance però è nata che l'anno scorso stavamo guardando col team la 200 miglia di daytona il team manager ha detto se vincete il campionato quest'anno vi porto come premio a daytona abbiamo vinto ed è stato di parola se l'ha ricordato e quindi adesso abbiamo abbiamo questa gara da fare tra poco sarà sicuramente emozionante perché è una pista incredibile particolare con il banking quindi ci sono queste queste curvoni sul banking è una pista particolare dove non c'è tantissimo grip dove si corre con le 600 che non ha una grandissima esperienza noi ti viene sempre sulla R1 però sto giro qua bisogna saltare sulla R6 adesso potresti andare a fare il super sport per allenarmi un pochettino diciamo che è una bella sfida sicuro non è facile perché lì ci sono gli americani che conoscono molto bene la pista specialisti delle 600 quindi sicuramente non sarà facile però è un'esperienza così un premio non vedo l'ora di andare a vedere come come può andare soprattutto provare la pista che sai che sarà sicuramente divertente ti chiedo un po cosa ti aspetti c'è sarà un po una sfida al buio oppure si va là con un'ambizione di poter giocarsi qualcosa di importante ricordiamo che lo scorso anno ha vinto josh erin con la ducati lui uno che penso abbia una buona conoscenza del tracciato ma sicuramente difficile fare un pronostico perché non conoscendo la pista ho visto il il programma del weekend ci sono 20 minuti di prova libere poi si entra subito in qualifica quindi sicuramente non è non è facile però non ho neanche molta esperienza con 600 abbiamo fatto un test ad almeria settimana scorsa che è stato molto bello mi sono divertito tantissimo con 600 però sicuramente difficile fare un pronostico perché finché non sei lì non sai quindi farò sicuramente il massimo perché è una gara è la prima gara dell'anno quindi bisogna bisogna far bene ma è difficile da dire poi è una gara dove ci vuole tanta strategia perché le scie contano moltissimo spesso fino al pit stop al primo pit stop sono tanti piloti tutti una attaccata all'altro quindi sarà sicuramente bello anche questa cosa di strategia e poi il nostro team il team IART sono molto molto carichi per questo per questo evento perché siamo un team di endurance no e quello potrebbe essere un vantaggio nel senso che sono molto bravi nei cambi gomme abbiamo tanta esperienza nei pit stop anche noi piloti rispetto magari ai piloti del moto america che fanno gare in tradizionale sprint quindi diciamo abbiamo qualche svantaggio ma anche qualche vantaggio quindi proviamo a compensare ma adesso ti faccio già questa domanda allora io so che voi come team IART avete un po' un conto in sospeso con suzuka non per colpa tua perché lui ha sempre su me ha fatto ma no perché voglio fare una sviolinata a nike che è un mio caro amico però tu negli ultimi due anni hai fatto una grande differenza suzuka poi però purtroppo non siete riusciti a concretizzare ma se devi scegliere tra Daitone e suzuka cos'è la rivincita di suzuka oppure cerchiamo di prendere tutte e due ma in ogni caso chiaramente suzuka rimane nel target principale non solo della stagione ma della mia carriera perché ho fatto tanti diversi anni ad essi in endurance e ci siamo tolti tante soddisfazioni ho vinto tutte le 24 ore però manca suzuka manca veramente a quantomeno fare un po' di suzuka è quello che ha vinto il titolo a suzuka mi ricordo sì con GMT 94 avevamo però con il risultato eravamo qui quinto o sesti al raguardo e avevamo amministrato per vincere il titolo invece adesso bisogna cercare di fare di fare bene cercare di finire sul podio perché è una gara pazzesca bellissima una pista incredibile abbiamo tutto il pacchetto per far bene perché abbiamo le brigie sono ufficiali abbiamo la moto l'R1 che è eccezionale su quella pista è nata praticamente su quella pista quindi bisogna fare bene oh ma ha detto che gliel'hai collaudata bene la Yamaha Valentino quando ha dato a Portimao no? ma sicuro Valentino non ha bisogno di me che gli colla nella moto però quando la usa è contento quindi mi fa piacere la moto quella R1 che utilizza il buio è una moto veramente bella e quindi sono contento che gli piaccia ascolta Nick qua in Australia dai parte anche il mondiale le gomme arrivano e quindi siamo contenti ti chiedo arrivano le gomme? sì le gomme arrivano ok ottima notizia vedi? no a parte le battute ti chiedo un po' com'è che hai visto Johnny in questi test? secondo me Johnny non ha mostrato del tutto il suo reale potenziale è stato un pochettino nascosto ma l'ho visto subito molto a suo agio con la Yamaha gli è piaciuta molto ha dato un sacco di commenti positivi poi è bello vedere i primi giri quando si è tolto il casco un gran sorriso gli è piaciuta molto la moto è chiaro che ci va un pochino di tempo per rodare tutto il pacchetto diciamo hai un capo tecnico nuovo hai una squadra nuova hai una moto nuova quindi ci va un pochino di tempo per rodare tutto abbiamo fatto un po' di chilometri durante l'inverno e ci sono state delle giornate molto positive delle altre un pochino più difficili ma in ogni caso fa parte tutto del processo per creare questo gruppo perfetto e pensare di arrivare a Phillip Island alla prima gara della prima stagione con Yamaha subito ad essere al 110% non lo so soprattutto con un giorno di test anziché due però diciamo che sicuramente è un pilota con un'esperienza incredibile ha un talento pazzesco e secondo me sarà molto competitivo già da questo weekend e possiamo provare a Dambira qualcosa di interessante anche perché questa è una pista dove la Yamaha funziona molto bene eh sì assolutamente negli ultimi anni Lorca lo scorso è stato molto forte Toprak aveva vinto al debutto ricordiamo bene anche Dominic e Garner avevano fatto che erano al loro al debutto anche loro in Superbike avevano fatto bene ti chiedo quanto è che è cambiata la R1 da quando c'era Toprak ad adesso che è arrivato Johnny? ma sicuramente come dal punto di vista di setting Toprak era un po' estremo un po' diverso da tutti gli altri piloti e quindi aveva delle soluzioni che agli altri non piacevano ma Johnny è un pochino più sullo standard sicuramente anche lui ha le sue esigenze particolari ma è un pochino più standard rispetto agli altri piloti quindi è stato anche un pochino più facile cucigliare la moto addosso per il momento la moto non è rivoluzionata rispetto a quella dell'anno scorso non ci sono grosse modifiche però stiamo lavorando siamo in costante i ragazzi a casa anche Riccardo Tisci che è responsabile dello sviluppo della moto sta facendo un grandissimo lavoro per continuare a spremere il più possibile questa R1 e tira fuori sempre delle innovazioni e delle cose nuove per migliorare perché chiaramente la concorrenza avanza e bisogna cercare di essere competitivi sempre da un punto di vista dello stile tu l'hai detto Toprak forse aveva tracciato una strada sua unica, particolare Johnny ovviamente vedo più una Yamaha che magari va incontro alle necessità di forse di tutti i piloti ti chiedo dal punto di vista dello stile quanto sono diversi questi due piloti Toprak e RIA ma sono due piloti che entrambi sanno portare al limite la moto in un modo incredibile siamo stati abituati a vedere Johnny portare al limite la sua moto negli ultimi anni in ogni curva di ogni circuito e questo è un feeling che si crea con un pochino di tempo e Toprak l'abbiamo visto fino alle ultime gare dell'anno scorso anche l'ultima gara che si vedeva che era al limite guidava proprio sul filo e questa è la cosa bellissima dei grandi campioni come loro due e come Toprak penso che non abbia ancora trovato questo feeling con la sua nuova moto Johnny sta cercando di trovare questo feeling per arrivare al 110% con la Yamaha e spero che riesca a trovarlo già dai test qua e di arrivare nel weekend di gara al massimo Ascolta, Toprak era uno che sforzava molto sull'anteriore le gomme lui le tirava via, le sfruttava fino all'ultimissimo molto spesso l'abbiamo visto rimanere molto un po' aggrappato forse era quello lo stile di cui avevi bisogno per provare a combattere con Bautista il mio punto di vista è opinabile ovviamente al 100% con RIA com'è che siamo messi? Cioè bisogna arrivare non lo so a sforzare così tanto oppure si cerca di magari un'altra via? Ma diciamo che il punto debole di Toprak l'anno scorso era nei curvoni veloci nei curvoni lunghi, curvoni da terza come l'ultima curva di Portimao come la curva con la lunga per il rettilineo dietro Geriaz quindi ci sono tante curve dove lui faceva fatica ed era molto forte invece nel tornantini a fermarla nello stretto Johnny è fortissimo invece in questo tipo di curve queste curve veloci subito noi abbiamo anche pensato in qualche momento che fosse il limite della moto quando eravamo con Toprak invece abbiamo visto che la moto funziona e che era proprio un'interpretazione diversa dei due piloti e si vede Johnny è già fortissimo in queste curve è già meglio di Toprak in tanti punti e in frenata sinceramente è già ad un buon livello quindi molto molto vicino alle prestazioni di Toprak dell'anno scorso quindi sicuramente secondo me è un pacchetto molto completo quello con Johnny No bello, cioè il fatto che appunto hai analizzato poi ovviamente tu lo segui in pista io ti vedo sempre partire con lo scooter andare lì a seguire i tuoi ragazzi lungo il tracciato cioè già il fatto che Johnny quello che è un punto deboli di Toprak si è diventato un punto forte di Johnny penso che sia già un aspetto abbastanza chiave di quello che è il lavoro che state facendo che state portando avanti sì, questa è una cosa veramente molto molto positiva ed è una cosa che è venuta naturale da subito appena è salito sulla moto quindi è veramente veramente positivo e poi vorrei anche dire due parole su Locatelli perché secondo me quest'anno può essere una grandissima sorpresa per la lotta lì davanti perché ha fatto tutta la stagione scorsa molto positiva ha finito molto competitivo ha fatto dei test invernali dove ha martellato bene ha fatto tantissimi long run ha girato forte ha avuto un passo incredibile e secondo me qua è una pista dove lo sforzo hanno Locke ha fatto molto bene e poi ti dico ma è un altro aspetto che piace molto di Locke e che volte glielo ho chiesto però lui lo sminuesce anche cioè Locke è stato nel box con Toprak e secondo me non è facile condividere il box soprattutto dal punto di vista mentale con un fuoriclasse con un campione come Toprak che si cattura i riflettori e poi ovviamente ti porta a un altissimo livello e lui insomma è bravissimo è riuscito a gestirsi a tenere anche per certi versi botta nei confronti di Toprak e adesso anche con Gio io penso che da voi dal punto di vista mentale non era stato così facile perché noi ne abbiamo visti tanti piloti che nel momento in cui gli metti un campione si spengono e l'anno dopo te lo trovi via e invece Yamaglia ha dato pure un ulteriore supporto cioè un ulteriore riconoscenza con altri due anni di contratto quindi io penso che davvero Locke stia facendo veramente un qualcosa di molto molto importante e prezioso sì, Locke poi lavora benissimo all'interno del box ha sempre mantenuto la calma la tranquillità anche nei momenti più difficili è arrivato quando è arrivato il suo primo anno senza grosse pressioni da campione del mondo super sport ma sapendo che comunque è un anno di apprendistato e comunque ha finito terzo nel mondiale miglior rookie dell'anno ha fatto una stagione incredibile e quindi sicuramente ha preso consapevolezza nelle sue capacità chiaramente confruttarsi con uno come Toprak non è mai facile per nessuno anche per me quando faccio i test quando faccio i test sulla moto e gli anni scorsi vedevo i suoi dati ti veniva mal di testa però diciamo che Locatelli non ha assolutamente sfigurato e tante gare rimasto lì con lui hanno lottato quindi sicuramente è uno che sta crescendo sempre di più sta maturando sempre di più ed è ormai pronto per lottare anche lui per il titolo l'ultima domanda che è la più importante di tutte si sposa questa è un'altra grande sfida l'altro che Daytona Sun Tzuca quelle sono le sfide importanti non devi sbagliare ti raccomando ce la mette tutte grazie speriamo che non sbagli lei più che altro vabbè l'importante è arrivarci poi dopo in discesa Nick dai ti faccio tanti auguri grazie mille per il tuo matrimonio dai anche bravo complimenti penso che stai facendo veramente un grandissimo lavoro di Yamaya ma penso siamo orgogliosi e contenti di te speriamo bella ti ringrazio ti auguro un buon lavoro un buon fine settimana qua a Filippa grazie e ciao a tutti ciao